Un mese di maggio che lascia ben sperare in vista dell'estate, anche a Pesaro il turismo sta ripartendo e i segnali sono incoraggianti per la prossima stagione ormai alle porte. Prevediamo una stagione all'insegna dell'ottimismo, anche se sarà una stagione breve, concentrata sui mesi di luglio-agosto, speriamo che le presenze ritornino a quelle che erano nel 2019 prima della pandemia. Per quanto riguarda i prezzi invece, come ha spiegato il presidente dell'Associazione Pesarese degli Albergatori, a differenza di altri comparti non si registra un aumento importante nonostante i costi lievitati in tutta Italia di luce, gas e materie prime. I listini sono già definiti, in quanto noi li facciamo uscire già a novembre, ottobre, novembre dell'anno precedente per quanto riguarda i tour operator, quindi grandi aumenti non ci saranno e non ci possono essere. Sicuramente qualcosa sottodata ci potrebbe essere e il problema grosso quest'anno ce l'avremo invece sull'aumento dei costi che è stato oltre il 30%. D'altra parte si tira un sospiro di sollievo grazie al ritorno alla normalità, c'è voglia di viaggiare e di mettersi alle spalle due anni di pandemia. Una conferma di quello che è il turismo italiano di prossimità, in questo momento si sta anche muovendo qualcosa legato al turismo internazionale, ma parliamo comunque di Germania, Austria, quindi paesi vicini all'Italia e abbiamo questa grande incognita della guerra che comunque rimane un'incognita appunto nei suoi sviluppi. L'altro problema a cui devono far fronte gli albergatori e non solo rimane quello della carenza di personale. Soprattutto per quanto riguarda la sala, che è quello che sta soffrendo un po' di più degli altri settori, ma comunque in generale si nota non molto movimento. Siamo in costante ricerca, anche noi come associazione ci stiamo muovendo per ricercare il personale nei nostri canali e tutti quanti in questo momento siamo alla ricerca di personale.